Da Moversi in Toscana, buon viaggio, bentrovati da Mauro Ciutini. Traffico intenso su strade e autostrade della Toscana. Al momento in A1 viene segnalato un veicolo in avaria tra Monte San Savino e Valdichiana, la direzione quella per Roma. Code in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto, la direzione del capoluogo. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, code a tratti tra Firenze Viadotto Indiano e Lastra Assigna in direzione di Livorno. C'è pioggia sulla stradale 63 del Valico del Cerreto, il fondo stradale scivoloso segnalato prima del Valico. Traffico intenso sui viali a Firenze, via Guido Monaco, viale Redi, viale Belfiore, viale Milton, viale Strozzi, viale Fratelli e Rosselli. Possibili disagi per quanto riguarda i treni al via da stasera alle 21, uno sciopero che durerà fino a domani sera alle 21, sciopero anche del trasporto pubblico. È tutto, muoversi in Toscana grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, a dopo. Grazie a tutti.